L'offerta NavLab è centrata sul segmento ERP, quindi soluzioni customizzabili, personalizzabili per le aziende. Questo perché nel mercato italiano anche aziende di dimensioni non grandissime, anche medie e piccole, in realtà hanno forti esigenze di personalizzazione. Sono aziende che stanno sul mercato perché hanno dei processi ottimizzati e non possono stravolgere i loro processi, non possono cambiare il modo di lavorare per adeguarsi al software. Deve essere il software che si adegua al loro modo di lavorare per permettergli di mantenere quelle caratteristiche che sono alla base della loro competitività. In base alla nostra esperienza il livello di uso delle nuove tecnologie nelle aziende edili è relativamente basso. Crediamo che ci siano ampi spazi di crescita perché le esigenze di tecnologia queste aziende ce l'hanno. Sono aziende che hanno e movimentano un numero estremamente ampio di prodotti diversi, interagiscono con una clientela diversificata, sia privata che professionale, quindi scenari che cambiano molto nel tempo. La tecnologia potrebbe aiutarle molto ad aumentare il livello di servizio, di efficienza e di marginalità. I vantaggi per le imprese del settore distribuzione sono molteplici. Innanzitutto partiamo da quelli elementari, l'ottimizzazione dei processi, intendo naturalmente magazzino, ordini, inventario. Questo però è proprio il punto di partenza. Il secondo step già più interessante è il miglioramento del rapporto con i clienti. L'adozione di sistemi evoluti mi permette di gestire meglio quelle eccezioni che oggi sono la regola, campagne, promozioni e anche di conoscere meglio, di segmentare meglio i miei clienti, quindi conoscerli meglio, individuarli, categorizzarli. Un passo ulteriore è quello che ottengo dalla grande quantità di informazioni strutturate che gestisco con il sistema IRPI. Con questo sono in grado di migliorare i miei processi decisionali e previsionali. Per esempio anche una valutazione più precisa della marginalità e delle conseguenti scelte strategiche che faccio. Più a un livello strategico ancora direi che l'adozione di un sistema IRPI costituisce un vantaggio competitivo in quanto è un sistema che mi può seguire nel tempo, può seguire la mia evoluzione nel tempo. È un sistema adeguato non solo a coprire i bisogni di oggi ma che mi può seguire anche nei bisogni di domani e di dopodomani. Noi abbiamo deciso due anni fa di cambiare il nostro gestionale e siamo arrivati a Microsoft Dynamics Nav per una decisione anche della nostra casa madre che con altri filiali lavora già con Microsoft. In più arrivavamo da un gestionale che ci crollava una volta al giorno. Siamo partiti senza nessuna particolare difficoltà. Pensi che il nuovo gestionale è stato introdotto solo dopo 14 settimane dopo il primo incontro con le persone di NavLab. Siamo partiti con un go live il primo gennaio e dallo stesso giorno sono partiti tutte le spedizioni senza neanche nessun errore. I vantaggi sono molti. In prima linea devo dire c'è il nostro sistema B2B e-commerce. È un sistema che avevamo già però è stato perfezionato e infatti adesso 95% degli ordini urgenti vengono piazzati tramite questo canale. Un ordine piazzato in questo sistema direttamente dal nostro cliente. Un altro vantaggio è il cross-talking. Il cross-talking è stato perfezionato in modo tale che la merce sosta da noi solo a breve tempo in magazzino e praticamente con due clic abbiamo pronto tutti i documenti per l'entrata e per l'uscita della merce. Un altro è stato anche il potenzialamento del flusso dei dati fra la nostra casa madre in Germania e il NAV Microsoft perché non dobbiamo quasi nessun dato iserire manualmente. Con un semplice clic vengono importate la merce che arriva, vengono cambiati i dati del materiale, vengono importati i listini dei prezzi e così via. Un altro vantaggio è anche il tracking della merce. Con la produzione delle etichette direttamente dal sistema NAV vengono etichettate direttamente alla preparazione i nostri pacchi e sono tracciabili dal primo momento. Noi abbiamo formato il personale già esistente qui in azienda. Il ritorno dell'investimento c'è di sicuro. Noi prima nel customer care lavoravamo con quattro persone. Adesso nonostante dell'aumento del fatturato lavoriamo solo più con due persone.